Generalmente nell'adulto si consiglia di fare 150 minuti di attività motoria alla settimana moderata oppure 75 minuti di attività più vigorosa come correre, andare e ballare velocemente ai quali vanno aggiunti due volte alla settimana almeno degli esercizi di rafforzamento muscolare. Se una persona ha più di 64 anni è importante aggiungere degli esercizi per mantenere l'equilibrio perché bisogna prevenire le cadute. Inoltre è anche importante non essere troppo sedentari per cui se si sta seduti a lungo ogni mezz'ora bisogna interrompere per fare alcuni passi.